Guglielmo Marconi e il mare, un rapporto particolare datato 1899. Al genio bolognese infatti è attribuita la prima trasmissione radiotelegrafica della Coppa America. In quella circostanza si dice che Marconi trasmise in tempo reale la regatta in corso alla Baia di New York segnando una svolta storica per la vela e per il mondo intero. Per celebrare l'evento in occasione dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi con l'avvio della 37esima edizione della Coppa America Barcellona la città spagnola si arricchisce di un evento culturale imperdibile l'American's Cup Experience, la mostra ufficiale della competizione che offre un tributo interattivo a Guglielmo Marconi. Situata nell'edificio in Maxa del Porto Vell, questa esposizione mette in evidenza il suo impatto nel mondo della comunicazione e il legame di Marconi con la Coppa America. Il progetto espositivo è parte di un programma più ampio promosso dall'associazione Vitruvio che opera tra Barcellona e Bologna. Da due anni stiamo lavorando su questo progetto Marconi, 150 anni, American's Cup Barcellona con l'associazione Vitruvio Bologna e l'associazione Vitruvio Barcellona di cui sono presidente. È già cominciata, ci siamo, è già visibile, visitabile la mostra, un'installazione dedicata a Marconi all'interno dell'American Cup Experience, un edificio che racconta la storia dell'American's Cup e si può trasmettere con un pulsante Morse e vedere il risultato dei propri messaggi su un monitor. Per produrre questa energia bisogna pedalare, come fanno i cyclor su queste imbarcazioni incredibili che pedalano per produrre energia e azionare così tutti i meccanismi che consentono all'imbarcazione di volare sul mare grazie al talento degli skipper.